un nuovo format di ristorazione a due passi dal pontile di ostia e alt stazione del gusto un modello unico nel suo genere nato dalla collaborazione tra eni live e accademia nicoromito permette di gustare cibo di qualità in un'atmosfera informale come la storica stazione di servizio in piazzale della posta giovanni maffei responsabile commerciale e marketing di eni live accompagniamo gli italiani mobilità da oltre 70 anni e oggi per primi abbiamo capito l'importanza di trasformare le stazioni mettendo il cliente al centro dandogli quella opportunità di usufruire di servizi di alta qualità per soddisfare le sue esigenze in mobilità alt è il fiore all'occhiello di questa grande trasformazione crede riteniamo che il food sia centrale appunto tra quelli che sono i servizi basilari per le persone in mobilità il primo che è stato aperto punto è viale america questa è la seconda apertura nelle prossime prossimi mesi apriremo ulteriori alte su roma corso francia circovalazione trionfale aurelia per poi seguire nelle altre città italiane e non escludendo entro fine anno di scendere anche su alcune location europee con particolare riferimento a progetti che stiamo vedendo su berlino monaco e vienna alt propone un menù che si declina dalla colazione alla cena con un'offerta gastronomica da gustare al tavolo ideata dallo chef nicoro mito spesso si pensa che fare grandi numeri non vuol dire fare qualità ma invece la sfida è proprio questa è dove sta andando la mia ricerca quindi partando dall'alta ristorazione dal mio ristorante dai laboratori che ho riuscire a creare dei prodotti che dialogano con la strada accessibili quindi anche un'offerta pop un'offerta semplice un'offerta per tutti ma la voglia era quella di attualizzare un modello pop ma attualizzarlo non solo dal punto di vista proprio del palato ma anche dal punto di vista della qualità intrinseca